Salve ragazzi, eccoci qua con la seconda parte della storia zombie di Call of Duty e ringrazio nuovamente Gabriele per il doppiaggio e tutti i miei admin che hanno collaborato per la creazione anche di questa seconda parte vi voglio informare prima di inizio video che questa parte dovrà molto meno rispetto alla prima e quella che sarà in futuro la terza perchè semplicemente Black Ops 2 è un capitolo che ha veramente dato poco alla storia anche perchè gran parte degli argomenti che dovevano essere tratti su Black Ops 2 l'abbiamo trattati anche sulla prima parte quindi per evitare di ripeterci nuovamente con Broken Arrow e i propri esperimenti abbiamo deciso di farli dirgli soltanto sulla prima parte e non ripeterli sulla seconda nuovamente pertanto ci scusiamo per questo piccolo imprevisto se possiamo chiamarlo tale e nulla, poi l'ultima informazione che volevo darvi è che sulla seconda parte non saranno presenti Origins e Moved Dead in quanto noi admin le consideriamo mappe che hanno contribuito più alla storia di Black Ops 3 che a quella di Black Ops 2 quindi questa seconda parte della storia zombie narrerà soltanto e unicamente degli eventi di Die Rise, Transit, Bared e Nuketown detto questo ci vediamo nel prossimo video e alla prossima parte buona visione, bella ragazzi Nuketown, 13 ottobre 2025 una bomba nucleare esplose al di fuori di Nuketown come risultato degli scavi di Broken Arrow in ricerca dell'elemento 115 la CDC arriva lì ritrovandosi un'invasione zombie già in corso uno dei missili lanciati dalla luna colpisce Nuketown uccidendo tutti i presenti a parte Martin Johnson che sopravvive grazie a un bunker nucleare la distruzione della terra causa l'apparizione di altre fenditure temporali teletrasportando una città americana del west del 1800 nel sottosuolo della base degli scavi in Angola Arthur, il quale era entrato all'interno della fenditura nel 1318 arriva in Buried Broken Arrow si scioglie dopo che la base principale viene distrutta dal fuoco viene poi pensato che questo fosse stato un atto commesso dagli impiegati per nascondere le prove del loro involgimento nell'invasione zombie Rosman, dopo 40 anni di esposizione all'elemento 115, comincia a viaggiare per la terra 27 marzo 2027 viene formata una società di sopravvissuti che mangia non morti conosciuta come la carne 12 maggio 2027 Samuel J. Stalinger entra a far parte della carne attraverso il consumo dei non morti i membri della carne cominciarono a sentire la voce di Richthofen quest'ultimo cerca di persuaderli a costruire dei dispositivi di polarizzazione globale per portare a compimento il suo piano riparare la fenditura nello spazio-tempo e acquisire il completo controllo sull'etere science has failed us he has abandoned us in this new world we alone are your salvation we alone can light the world hear our words feed our core there is but one path to enlightenment just as they consume us we must consume them we are living and we are dead we are the flesh and the flesh is us we will not starve we will thrive if there is anyone come here please respond i desperately need help nothing left me i never move i'm trying to help i'm trying to help hear that click click that's my empty phone phone this piece come here this piece come here maxis contatta allo stesso modo i sopravvissuti chiedendo le medesime cose chieste da rictofen per svolgere il suo piano aprire un portale per agartha per rivedersi con samantha anche se ciò avrebbe portato alla distruzione della terra la carne manda il suo messaggio su tutte le frequenze radio dicendo agli altri sopravvissuti di ascoltarli e che la via per l'illuminazione può essere ottenuta soltanto consumando un non morto i seguaci di maxis cominciano la costruzione di un dispositivo vicino alla base di hanford site quindi i seguaci di maxis iniziano a dubitare di lui credendo che quest'ultimo possa essere malvagio decidono di distruggere la loro elettronica viene mandato un messaggio attraverso tutte le frequenze che afferma la caduta della carne e di tutti i seguaci di maxis siccome ogni gruppo sentiva sia la voce di rictofen che quella di maxis scoppiò una guerra fra di loro durante la loro battaglia un'ordine di zombie è apparsa distruggendo tutti quelli che erano rimasti stalinger fu uno dei pochi che riuscì a scappare rictofen e maxis sono rimasti senza nessuno con cui comunicare vicino a green run dove il primo dispositivo di polarizzazione globale doveva essere costruito stalinger si incontra con russmann il quale aveva rubato un bus da una base abbandonata di broken arrow 21 ottobre 2035 transit stalinger e russmann incontrano abigail misty briarton e marton in un caffè vicino alla base di hanford maxis chiede di completare il dispositivo di polarizzazione globale in suo favore stalinger avendo consumato la carne di zombie viene contattato da rictofen che gli ordina di costruire per lui il dispositivo la crew costruisce il dispositivo per maxis i quattro verranno poi conosciuti come victis 22 ottobre 2035 die rise ancora in speranza di ottenere il controllo rictofen teletrasporta i victis nella provincia 22 dove ordina stalinger di attivare il secondo dispositivo di polarizzazione ancora una volta la crew ascolta maxis entrambe le voci si fermano per del tempo lasciando i victis a viaggiare per la terra 31 dicembre 2035 buried i victis arrivano alla risoluzione 1295 in angola ritrovano arthur in una cella il quale le aiuta nel compimento del loro obiettivo tornano le voci di maxis e rictofen i victis attivano l'ultimo dispositivo di polarizzazione globale in favore di maxis adesso corrotto dall'etere oscuro maxis rivela le sue vere intenzioni ai victis e punisce rictofen intrappolando la sua anima in uno zombie portata da garta da suo padre samantha vede il male che ha corrotto quest'ultimo quando una fenditura si apre nella dimensione 63 del 1918 quest'ultima si dirige verso il maxis di quell'universo chiedendogli aiuto chiedendogli aiuto chiedendogli aiuto